Consueto appuntamento del sindaco Adamo Coppola in diretta su Cilento Channel, in cui ieri è intervenuto principalmente sulle vicende accadute nel weekend ad Agropoli. Il sindaco ha poi confermato di aver parlato con Franco Alfieri dopo l'incontro con il direttore generale dell'ASLA di Salerno Mario Iervolino e ha dichiarato di attendere i segnali attesi per inizio giugno. Il sindaco di Capaccio Pestumo, Franco Alfieri, sarà in diretta oggi sulla nostra emittente alle ore 18 per parlare proprio di questo incontro. Adamo Coppola ha poi aperto il discorso Movida che è ricominciata già con i primi problemi. Nel prossimo weekend faremo in modo di non far accadere momenti di crisi come nello scorso fine settimana. Abbiamo capito i problemi e ascoltato i cittadini, afferma Coppola. Saremo pronti per non farlo ripetere con controlli mirati e parlando con i proprietari di locali con maggior frequentazione per evitare assembramenti. Molte situazioni sono accadute quando era terminato il turno dei vigili. Organizzeremo turni diversi per avere maggiore presenza delle pattuglie. Sabato sera l'asporto si è trasformato in un incontro. Non deve succedere. Le risse per fortuna non sono degenerate, sono stati fatti danni anche al campo pulito. Le macchine incendiate a fonti non sono legate alla criminalità ma a discussioni fra famiglie.